19 luglio L'essenza di un uomo è la sua originalità, ovvero essere un'origine per gli altri. L'origine non è una stravaganza, un'originalità nel senso qualche cosa che sopravvanza la normalità, la routine. O almeno non è solo questo. L'originalità qui è qualcosa dal quale non si può farne a meno. È qualche cosa che non può non essere considerato. L'originalità di un uomo è ciò che è avvenuto con quell'uomo, è ciò che è avvenuto al mondo con quell'uomo, che non può essere dimenticato, che non può essere cancellato. È il suo essere unico. È il suo essere qualcosa di imprescindibile, dal quale non ci si può staccare. Perché? Perché questa originalità è entrata in rapporto con noi. Perché noi non possiamo non considerarla. Perché questo evento dell'uomo, questo evento di origine e di originalità dell'uomo è un passo nella storia che non può essere trascurato. allora, in questo senso, quel uomo diventa origine per noi, perché noi non possiamo fare a meno di lui. E questo è avvenuto perché tra noi e lui c'è stato un rapporto. C'è stato una costruzione di storia tra noi e lui.